Mai più un'altra Corinaldo, mai più lacrime versate per stragi evitabili e prevedibili, mai più momenti di festa trasformati in tragedie collettive. Questo ha animato gli intenti della Commissione Sucurezza per il pubblico spettacolo del Comune di Fano quando ha deciso di effettuare i controlli che sono scattati alla mezzanotte di ieri in occasione di due feste per giovani che erano in programma nel territorio fanese, una nella zona del porto e l'altra in un noto locale di Torrette, il Movie X No. 5. Come ci è stato segnalato anche da alcuni genitori che erano presenti a Torrette per accompagnare i figli proprio come è accaduto a Corinaldo, Polizia Locale, Visi del Fuoco e altre forze dell'Ordine hanno eseguito controlli mirati all'interno dei locali sulla capienza del locale, sui biglietti in realtà poi venduti e anche su sistemi di sicurezza, uscite, capienza e tutto quello che riguarda la gestione dei locali. Per una questione di capienza complessiva quindi ed anche in virtù di alcune anomalie riscontrate all'interno in molti sono rimasti fuori dal locale in fila pur avendo pagato il biglietto di 13 euro al freddo dalle 23 della sera prima. Alle 3 del mattino poi la forza pubblica ha fatto defluire i ragazzi al di fuori del locale per ragioni di sicurezza interrompendo così la festa in corso. Con la commissione pubblico spettacolo abbiamo deciso di fare dei sopralluoghi in queste feste in modo preventivo avvertendo anche che avremmo controllato e questo sia per la sicurezza di chi gestisce ma anche per la sicurezza di chi si diverte e dei familiari e delle famiglie che sanno che i ragazzi sono in luoghi sicuri. Alcune cose davano benissimo, in altre c'erano delle imperfezioni per cui abbiamo preteso che queste vengano sistemate in modo tale che quando ci siano delle feste tutti possano divertirsi nella massima sicurezza. Ora attraverso il profilo Instagram del locale l'organizzazione ha assicurato il rimborso del biglietto. Ragazzi e genitori però si aspettano trasparenza e serietà in chi gestisce eventi di questo genere perché non ci sia mai più un'altra Corinaldo.